Senti Piero, visto che quando ti incazzi mi piace, mi piace anche la gente. Questi mercatini dei sapori, ma se vado a un fossa a un greppo, prima in Castica vogliono la cultura e poi i rocchi cotti in centro. Ma come mai abbiamo una città così? Acculturata dici te? Così sbagliata proprio, che non sarà tutta colpa dei fanfani. Bisogna i fanfani da sé tutti questi danni insieme, non li riesci a farli. A me mi sembra parecchio acculturata, perché vedi, scivola facilmente dai Castica ai rocchi, va bene? I rocchi per chi ti segue che non è a retina con le salsicce. Cosa sarebbe cambiato se invece a posto di quei vestiti c'erano i rocchi attaccati? Ah, almeno si seccavano. No, si seccavano e poi facevano più contenti magari quei 102 clochard che sono stati scoperti e quindi che onestamente... Sono stati scoperti i 102 clochard? Sì, a me ancora ne sono accorti. Dice che sono 102 clochard, capito? Che però noi abbiamo... L'hanno scienzito. Sembra che sia un vanto, capito, di avere questi 102 clochard, perché noi ci mettiamo all'occhiello 102 clochard e così ne parliamo, capito? Perché l'unica cosa che sappiamo fare è parlarne, perché poi dopo di fatto non si fa niente, perché io so che non si fa niente. Chi è questo che non si fa niente? Non si fa niente da parte di chi dovrebbe fare qualcosa per i clochard, perché l'unici che fanno qualcosa sono la Caritas e le chiese. L'hai letta la letta, quello che ti ha scritto su Ciaro e Tondo TV, sì? Sì. Chiero Franchini apprezzo quel che fai, sì, ma quelli che hanno creato queste situazioni sono anche i tuoi amici? Sono miei amici. Dunque, allora, chiariamo bene, chiariamo una volta per tutte cosa vuol dire per me amicizia. Amicizia vuol dire prima di tutto rispetto e quando poi mi accorgo che anche quelli che si fingono amici poi non mi rispettano, io dentro di me prendo le mie distanze, capito? e tante volte faccio anche dei saluti falsi, capito? Perché? Perché io saluto uguale, però dentro di me so che, insomma, non è che potrei anche dirgli, guarda, anche se mi saluti uguale, no? Ah, perché lo dici? Ma lo dico perché, ma lo sto dicendo, ma cosa ho detto ora io fino a ora? Tu mi sa che non mi ascolti mica, te mi ascolti quando parlo. Che ti devi incazzare, ha detto questo signore, che ti devi incazzare anche nella tua confederazione, facciamo tra le tue fazioni, anche con loro, dicono. Quali sono le fazioni? Le fazioni? Allora, io guarda, quando la mia vita non può essere un'incazzatura generale, no? Perché chiaramente tutti abbiamo diritto poi anche a un pochino di riposo, no? Mentale, soprattutto, no? E quindi, per poi... Ma il confesercente, c'è qualcuno che sbaglia o no? Ma il confesercente, secondo il mio punto di vista, guarda, onestamente, negli ultimi anni, diciamo, no. Perché dice che, questo ascoltatore, dice che c'è qualcuno che frena l'economia a retina. Ma sì, ma no. Ma sì, ma no. Sicuramente non la confesercente, perché noi, anche a livello... Qualcuno che è nella confesercente, no, non credo. Io, bene, non mi sono accorto, scusate. Ma sarà mica te. Ora approfondirò. Sarà lui, perché, di certo, quando non se ne accorge... No, io freno altre cose, magari, no? Insomma, con la macchina, quando sono in discesa le curve... Comunque, Piero, io voglio dirti, in chiusura di questo arpensa sci... No, io ancora non ho finito, un'altra due seconda. Io però posso continuare abbraccianti? Cioè, ora, dipende. No, ma siamo... La abbracci con rispetto e amicizia, oppure... Te lo spiego, certo, te lo spiego dopo, dai. Allora, ora mi hai fatto perdere più... Riparti, è rimasto a... Io ho una cosa che trasmetterò, che trasmetterò, e dunque, prevedo, prevedo, ancora non posso dire niente, ma però prevedo che sia un Natale di pace. Lo prevedo perché sento dentro di me... Già le palle che si gonfiano. Sento dentro di me già le palle... No, sì, le palle sono già gonfie, però sento che le potrò dipingere, che le potrò, quindi, farci delle palle di Natale in modo giusto, quindi... Allora, io credo che sarà un Natale di pace, e... No, non lo so, scusate, appensateci. Posso dire perché ti abbracci? Due motivi. Non perché ti voglio bene, non perché c'è un microfonino qui, così si senta anche te. Ah, ecco, ah, dimmelo, me l'hai detto ora. Eh, va bene.